Palla cortissima, ha preso la sprovvista, numero di Keita, ace per Turejko Lysinac e Trento che torna più 3-16 ora. Di parte Lysinac, ancora a cercare Keita, arriva il secondo ace, preso letteralmente di mira, numero di Keita dalla... Parte il suo servizio, oh Messile, ancora a cercare Keita, ma c'è una macchina di casa, alza gli occhi al cielo, Radostin Stoic, lo rivediamo, cercato proprio... Ancora la via, servizio cortissimo, un altro ace per Trentos, 16-8 ora, lo rivediamo, in questo caso è andato a giocare d'astuzia. Altro misile, altro ace per Trento, questa volta a pagare le conseguenze del servizio potente di Marco Podracionin e Mozic. 19-9 più 10, massimo vantaggio. Altro ace per Lytas, proprio sulla linea laterale davanti a Radostin Stolce, 4-12 ace, Micheletto finisce anche lui nell'elenco dei tanti uomini giallo-blu. Mattei Kaziski, ha preso il millimetro prima di andare al servizio, sulla lungolinea, palla che va giù. Palla insidiosa, arriva l'ace per Kaiser, ancora a farne le spese. Rafa, abbiamo visto il volto tirato del giocatore, 6-3, Elisina si può ripartire. Si scuoga in campo, ace per lui. Ne fa le spese in questo caso Mozic, che riceve direttamente out. Finito in libertà sulla rete, non ne ha approfittato. Sfiura il nastro, intanto la via gli nega la gioia dell'ace, arriva comunque. C'è allora approvato Mosca, a farti perdonare in quella parazione con Gazin, che però non è riuscito. C5 può tornare al servizio, lo schiacciatore di Trento. Di Grozdanov, ma il gioco di Trento sembra davvero non subire conseguenze. Intanto arriva anche l'ace di Riccardo Sbertoli, immobile alla linea di ricezione. Ma oggi si sa tante parole, visto che si trova proprio accanto a Stolce. Doveva confrontarsi in panchina col suo servizio. 18-10 Elisina sta al servizio, può partire il serbo. Arriva un altro ace per lui, gli ho perso il conto. Dunque questo dovrebbe essere il quarto di partita per Vecco Elisina.